Ok, con la seconda missione di Costa Marte, dalla famiglia Rhythm Sprite Ok Ci dirà? Dico Una volta conclusa con la parte della missione, che in realtà è divisa per in tre parti perché si può per la colpa di diverse carte della famiglia Bisogna trovare un punto di accesso per la famiglia Ah, ci sarà domani Dobbiamo trovare un modo di entrare in un deposito di CR alternatives Soprattutto Gratul Quattro 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 dovremmo trovare la base, la base di deposito barmi per la sera e per fare ciò dovremmo andare qui una volta arrivati, guarda qui per lo spettacolo, sta arrivando totalmente fantastico è notare che la situazione non è da rendire 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 la situazione non c'è non è乖ente Määrta! Määrta! Nei vatti! Aissi! Ciao! Ciao! Aissi! Ok, una volta arrivati qua... Ci dovrebbe essere tipo... Un'altra cosa... Ok, una volta che vi si è toccati strada all'interno, io potrei far fuori tutti quanti... C'è un bunker! Un bunker! Abbiamo messo a spenta di tardare la tercittà della stazione... Un bunker! Sempre confumato! Dobbiamo usare questo! Un bunker! Un bunker! Ho visto se la turma di... Un bunker! E' una Un bunker! Un bunker! Un bunker! Un bunker! Un bunker! Un bunker! di là non c'è niente di là non c'è un po' l'aperto vediamo di qua dovete stare molto attenti con tutte le trappole che ci sono in questa base dovete disattivare le trappole e poi riuscire finalmente ad entrare qui dentro ci sono tre trappole eccole ok ci sono tre tipologie di trappole allora sono due qua una sulla porta e una dovrebbe essere in teoria si vede che non mi esplorano successivamente sul... no... troppo peso? vabbè comunque e una sulla scatola dove si può trovare un missile da lanciare come è che pare dovevo prenderlo non ne sono dimenticato adesso va meglio ah ok niente in poche parole questa attiva la trappola che è con la bomba che è sulla scatola dove bisogna trovare il pezzo di collezione che lo dobbia amasare per far sperrare il colpo a questa mostrolita ok vengo a preoccupaggiarlo e spararlo ok adesso posso metterlo ok 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 a me non mi impari a saltarmi a me non mi impari a saltarmi a me non mi sembra di rimanere come un punto di isolazione un po' di emunizione che si può prendere a sky net sky net a me non mi impari a saltarmi a me non mi impari a saltarmi a me non mi impari a saltarmi oppure a me non mi incro too proprio inscritto ma quando per nuovi per la nostra ricompensa una sembra di un impegno per farla si deve ok intorno imetri che le Oh cazzo Ok 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 Lasciamo fare qualcosa Ma No No Invece No 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.